Musica Più controlli e maggiore prevenzione la richiesta dei sindacati dopo la tragedia sul lavoro di ieri a Fiumaretta Bagarre in consiglio regionale tra maggioranza e opposizione dopo l'incontro di ieri fra Toti e i tre assessori Rientra in carcere con ovuli e un mini cellulare scoperto grazie ai minuziosi controlli della polizia penitenziaria Spettacolare demolizione dei tre archi metallici a sostegno degli impalcati del viadotto Gravagna sulla A15 Parma La Spezia Le vecchie glorie dello Spezia Calcio si sono ritrovate a Beverino grazie all'impegno di Spezia Calcio Popolare Buonasera a tutti e a tutti benvenuti alla quotidiana edizione del TLS giornale di Tele Liguria Sud per l'occasione quella di martedì 25 giugno 2024 L'ennesima morte sul lavoro ieri a Fiumaretta ha provocato un'ondata di rabbia e di indignazione da parte di tutte le sigle sindacali abbiamo sentito il segretario provinciale della CIS Antonio Carro che ha sottolineato quanto sia urgente prendere al più presto dei provvedimenti per scongiurare la possibilità che fatti così gravi si ripetano in futuro vediamo un'intervista raccolta da Vimalcarlo Gabbiani e Davide Morina Ieri l'ennesima tragedia sul lavoro, morto un uomo di 69 anni in un cantiere di Fiumaretta le parole e il cordoglio non bastano più, servono adesso azioni concrete? Assolutamente sì, dobbiamo fermare questa scia di sangue che pare non fermarsi mai per questo servono azioni concrete, occorre intervenire con più ispettori, occorre intervenire con più prevenzione occorre intervenire con quella cultura della sicurezza affinché tragedie di questo tipo finalmente possano cessare Un tema importante sulla sicurezza sul lavoro è sicuramente il tema dell'usura, dei lavori usuranti bisognerebbe riconoscerlo soprattutto per certi mestieri? Esattamente, ci sono troppe persone che non possono accedere oramai pur avendo un'età oltre i 60 anni accedere alla pensione, per questo credo che sia all'ordine del giorno, si debba mettere all'ordine del giorno il fatto di porre queste persone in mansioni meno usuranti e meno pericolose è un tema complessivo, è un tema generale che stiamo cercando di portare in tutti i rinnovi anche dei contratti nazionali per tante lavorazioni dall'edilizia e lavoratori portuali, è un tema contingente che va anche questo risolto vanno trovate soluzioni affinché non succedano tragedie come quella di ieri Aveva con sé degli involucri nascosti con droga e un telefono cellulare ma non è riuscito a passare controlli della polizia penitenziaria è accaduto ieri sera nel carcere della Spezia a darne notizia il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del sindacato autonomo polizia penitenziaria ha così commentato questo risultato è stato ottenuto grazie al monitoraggio dei poliziotti che all'atto dei controlli durante il rientro in carcere hanno constatato una particolare agitazione del detenuto hanno constatato che risultava positivo anche a seguito di un controllo delle unità cinofoli della Guardia di Finanza condotto in ospedale a seguito di accertamenti radiologici venivano rindenuti tre corpi estranei, due contenenti droga e uno un microcellulare il Sappe, conclude il sindacalista, si complimenta con il personale di polizia penitenziaria della Spezia che nonostante le tante quotidiane criticità porta avanti in maniera indefessa la legalità all'interno del carcere Scintille in consiglio regionale in Liguria fra la giunta e l'opposizione che ha chiesto di riferire in aula i contenuti dell'incontro di ieri fra il presidente ad Interim Alessandro Piana e due assessori in casa di Giovanni Toti agli arresti domiciliari per corruzione vediamo il servizio di Jacopo Cidale A 24 ore di distanza dall'incontro di ieri tra Toti, Piana e altri due assessori Liguri oggi in consiglio regionale volano gli stracci l'aula infatti si è riunita come era già previsto da calendario con l'opposizione che ha chiesto però al presidente ad Interim Alessandro Piana di riferire nella seduta odierna o nella prossima circa l'incontro di ieri risposta negativa da parte di Piana che ha affermato le dichiarazioni sono le stesse fatte ieri in conferenza stampa non ci sono altre comunicazioni nell'incontro, ha detto Piana non si è parlato di questioni amministrative e dell'inchiesta ma solo della nostra azione politica del crono programma che ci ha portato a governare il consigliere di linea condivisa Giovanni Pastorino ha replicato allora qualcuno dice il falso secondo i giornali e secondo quanto è emerso dalla conferenza stampa ieri avete invece parlato di tre temi importanti per la regione il disavanzo, il ricassificatore e la questione delle nomine quindi o ci sono dei bugiardi o qualcosa non funziona per quanto riguarda l'inchiesta l'udienza per l'appello al tribunale del riesame presentato da Giovanni Totti e dal suo avvocato Stefano Savi è in programma l'8 luglio l'appello è la conseguenza del no del giudice per le indagini preliminari Paola Fagioni ha una prima istanza di revoca o in subordine di attenuazione della misura cautelare il riesame è chiamato a decidere se sussistano ancora le esigenze cautelari e quindi non entrerà nel merito delle accuse Totti è ai domiciliari dal 7 maggio entro il 15 luglio la decisione del riesame in caso di un nuovo no pronto ricorso in Cassazione Il contrammiraglio Massimiliano Rossi ha ceduto il comando del raggruppamento subacqui e incursore il Comsubin al contrammiraglio Stefano Frumento con una cerimonia svolta nella storica sede del Varignano alla quale hanno partecipato il sottosegretario di Stato alla Difesa onorevole Matteo Perego di Cremnago il comandante interregionale Marittimo Nord ammiraglio di divisione Flavio Biaggi e le autorità civili e militari locali è stata riaperta in queste ore la corsia di valle del ponte di Cavanella Vara nel comune di Beverino temporaneamente chiusa per consentire sulla corsia a monte l'impiego di una maxi autogru per il varo del nuovo impalcato i lavori sono stati svolti anche a fronte delle condizioni meteo sfavorevoli a tempo di record garantendo quindi la riapertura prima del termine previsto ripresa anche la circolazione veicolare e pedonale lungo la strada provinciale SP17 Beverino Bivio Aurelia sempre a senso unico alternato lungo la sola corsia a valle mantenendo i vincoli dati dalla presenza del cantiere il tutto per ridurre al minimo i disagi per i cittadini Spettacolare demolizione dei tre archi metallici a sostegno degli impalcati del viadotto Gravagna sulla A15 Parma La Spezia il servizio è di Sergio Diofili Avevamo accennato settimana scorsa i cantieri sulle autostrade che collegano La Spezia al sistema autostradale nazionale dall'ultima tranche di lavori per l'installazione di nuove barriere di sicurezza sui viadotti Vezzano e Fornola alle opere all'interconnessione fra A15 e A12 a Santo Stefano Magra in direzione di Livorno con i lavori per il potenziamento dello svincolo Probabilmente però l'opera più imponente è quella in prossimità del valico della Cisa dove nella notte fra il 19 e il 20 giugno sono stati demoliti con l'esplosivo tre archi metallici a sostegno degli impalcati della carreggiata nord del viadotto Gravagna di cui vi proponiamo queste immagini spettacolari L'attività ha coinvolto oltre 60 persone sotto la regia di Itinera la società responsabile dell'esecuzione dei lavori Opera iconica realizzata nei primi anni 70 tra i caselli di Pontremoli e Berceto il viadotto Gravagna era sostenuto da sei archi metallici noti come stampelle installati nel 1993 per ripristinare completamente l'efficienza del manufatto realizzate in acciaio e pesanti circa 400 tonnellate ciascuna hanno una lunghezza variabile compresa tra i 45 e i 62 metri le cariche sono state posizionate in 5 punti all'interno di cassoni metallici e visto l'elevato peso delle porzioni di carico sono state effettuate stime tecniche sugli effetti prodotti dalla caduta dei portali dopo la demolizione con esplosivo visto che le vibrazioni potevano interessare le fondazioni delle pile o altri elementi strutturali per smorzare l'effetto della caduta sono state utilizzate dune di materiali inerte per assorbire le vibrazioni indotte dall'impatto al suolo con la presentazione della nuova immagine visiva prende il via il piano strategico di comunicazione identitario del parco nazionale 5 terre con l'intento di rendere più immediato efficace e innovativo il brand del parco che verrà declinato in progetti e iniziative dedicate ai milioni di ospiti che lo scelgono ogni anno come destinazione di viaggio nella storica sede del Touring Club italiano nel cuore di Milano questa mattina sono state presentate diverse novità la nuova immagine visiva del parco un imponente progetto di segnaletica Wayfinding il concorso internazionale 5 terre foto award che premierà la migliore fotografia e una ricerca dedicata a cura del centro studi del Touring Club italiano è stato presentato oggi il nuovo corso di formazione per tecnici meccatronici delle autoriparazioni l'iniziativa è organizzata dal CNOS FAP Liguria in collaborazione con Autocom grazie al finanziamento della regione a valere sul bando formare per occupare il corso avrà inizio nel mese di settembre e sarà dedicato a giovani dai 17 ai 40 anni sono previste 600 ore di lezioni di cui 420 teoriche e laboratoriali e 180 di stage presso le aziende partner del progetto il 73% di chi finirà il corso verrà assunto grazie alla collaborazione con Autocom in una di queste aziende con decreto a firma del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in qualità di presidente del distretto sociosanitario riconfermato il dottor Davide Capellari come titolare dell'incarico del distretto sociosanitario numero 19 dal 30 agosto al 1 settembre prossimi torna a Sarzana il Festival della Mente tantissimi gli appuntamenti che avranno protagonisti scrittori, intellettuali e artisti la vendita dei biglietti partirà domani mattina sul sito www.festivaldellamente.it sul sito Viva Ticket e a Sarzana presso la biglietteria del Teatro degli Impavidi vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina presentata questa mattina nella sede di Fondazione Carispezia la ventunesima edizione del Festival della Mente si terrà dal 30 agosto al 1 settembre come sempre a Sarzana e quest'anno avrà un focus molto significativo il tema della gratitudine l'ispirazione è nata leggendo un libretto di Oliver Sacks in cui alla fine della sua vita ringrazia ed è grato al fatto proprio di essere vissuto e di essere stato circondato dalla bellezza del mondo credo che sia necessario che il Festival si faccia portavoce promotore della riscoperta di un sentimento che forse adesso è passato anche di moda e quindi gli incontri saranno all'insegna della gratitudine tra i nomi che parteciperanno al Festival quest'anno ci saranno tre grossi nomi stranieri un premio Pulitzer, Viet Thanh Nguyen vietnamita naturalizzato americano lo scrittore irlandese naturalizzato americano Colum Ekan e una scrittrice somala che vive a Londra Zainab Badawi il legame tra il Festival e la città di Sarzana dopo oltre 20 anni è veramente indissolubile assolutamente indissolubile aspettiamo con grande emozione questa ventunesima edizione grati per il grande percorso che abbiamo fatto fino ad oggi e con la convinzione di proseguire in futuro quest'anno il tema sarà un tema di grande profondità che si pone in una società in cui spesso la felicità è legata a aspetti in realtà marginali, velleitari, superficiali possiamo chiederci come individui e anche come collettività se possiamo essere grati e quindi felici per ciò che abbiamo piuttosto che per ciò che ci manca un tema che sarà affrontato in tutte le sue sfaccettature sicuramente il pubblico ne uscirà fortemente arricchito e anche con tanta speranza di avere più risorse più forza per affrontare le sfide che il futuro ci pone Protagonista come sempre anche la fondazione Carispezia la promozione della cultura rimane tra i suoi obiettivi principali La cultura e la promozione della cultura nella nostra provincia e nel nostro territorio rientra tra i compiti della fondazione la cultura è uno dei settori di intervento principali della nostra attività il Festival della Mente rappresenta nell'ambito culturale l'appuntamento più importante e l'impegno più importante anche dal punto di vista del sostegno che la fondazione affronta siamo alla 21esima edizione diciamo che sono stati 21 anni di successi perché il Festival ha sempre riscosso un grandissimo apprezzamento del pubblico dimostrando come la voglia di creatività la voglia di idee la voglia di cultura sia sicuramente il desiderio di approfondimento sia sicuramente qualcosa di molto sentito nel nostro territorio Partiranno il primo luglio prossimo i lavori per l'installazione dell'ascensore al plesso scolastico Poggi di Lerici nell'ottica dell'agevolazione dell'accesso agli edifici scolastici obiettivo già presentato all'interno del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche approvato nell'ultimo Consiglio Comunale l'opera vale oltre 90.000 euro che comprendono i costi di progettazione gli interventi strutturali le cerchiature e la macchina dell'ascensore la parrocchia di Mazzetta si prepara a festeggiare il proprio santo patrono un'occasione che prevede anche momenti di convivialità con il coinvolgimento di tutto il gruppo di volontari che opera a sostegno del parroco Don Sergio Lanzola vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina tutto pronto a Mazzetta per la festa di San Pietro patrono della parrocchia un carisma veramente particolare una fonte di ispirazione per tutti i cristiani sì direi che è quasi tutto pronto stiamo ultimando la preparazione la festa del patrono San Pietro Apostolo conclude un po' l'anno liturgico per la nostra parrocchia possiamo dire che è un po' una grande sinfonia in cui tante realtà, tante persone sono impegnate proprio per la riuscita di questa festa diciamo che la festa di San Pietro ci pone anche soprattutto in quell'attenzione specifica al Magistero del Papa per cui anche tutto l'anno diventa un'occasione per metterci in ascolto del Magistero di Papa Francesco lo facciamo in due modi generalmente tutti i mercoledì con l'ascolto comunitario dell'udienza generale e poi generalmente il 22 febbraio con la lettura lo studio di una lettera del Santo Padre tutto questo culmina appunto con la festa del patrono che è il 29 giugno e che quest'anno a livello liturgico prevede ovviamente il 28 con la messa vigiliare alle 18.30 presieduta da Don Emilio Valle che è un sacerdote originario proprio della nostra comunità il 29 giugno la messa solenne vespertina alle 18.30 sarà presieduta da Don Francesco Vannini parroco di Nostra Signora della Salute in Piazza Brin ci saranno tre serate conviviali che sono tipiche perché ormai sono tantissimi decenni che si fanno tre serate che vedono anche qui l'impegno di tantissime persone e sono più con uno stile proprio di convivialità giù nel campo sportivo in occasione della festa di San Pietro anche l'iniziativa di un giornalino della parrocchia il nostro notiziario comunio oltre vent'anni che è pubblicato e in questo mese è dedicato particolarmente alla festa di San Pietro e c'è una bellissima omelia di Papa Francesco poi ovviamente tantissime notizie informazioni sulla vita della comunità con tutte le iniziative che abbiamo svolto in questo periodo non può mancare come sempre un momento conviviale animato da tutti i volontari della parrocchia quest'anno abbiamo puntato tanto sul discorso su San Pietro San Pietro era un pescatore quindi i nostri piatti forti saranno gli spaghetti a sugo di muscoli per tutte e tre le serate la frittura di pesce la grigliata e poi avremo anche altre proposte però questi qui sono proprio i tre piatti che noi vi consigliamo nello stesso tempo sabato sera verranno donati alla gente che verrà messa dei biscotti a forma di pesciolino perché ricordano San Pietro il suo impegno come pescatore pescatore di uomini e pescatore anche nella vita Levanto ha celebrato la conquista della bandiera blu per il nono anno consecutivo con la consegna dei vessilli ai titolari o gestori degli arenili sui quali il prestigioso drappo sventolerà anche per quest'anno la cerimonia si è tenuta questa mattina il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l'Educazione all'Ambiente è stato ancora attribuito alle spiagge levantesi comprese tra la foce del torrente Gavazzo e l'area nautica di Valle Santa la spiaggia libera centrale la spiaggia attrezzata Central Beach e gli stabilimenti Blue Marlin e Valle Santa Sabato scorso a Beverino all'interno della sagra organizzata da Spezia Calcio Popolare si è tenuto il dibattito con le vecchie glorie dello Spezia Calcio e più precisamente con gli eroi della cavalcata vittoriosa dell'annata 2005-2006 che permise allo Spezia di ottenere la promozione in Serie B dopo oltre mezzo secolo vediamo il servizio di Daniele Ravuazzo Correva la stagione calcistica del 2005-2006 quando lo Spezia in quel di Padova otteneva dopo oltre 55 anni di assenza il lasso a passare per la Serie B era il primo maggio e un esodo di oltre 5.000 spezzini accorse sugli spalti dell'Euganeo a incitare e ad accompagnare la squadra verso l'obiettivo i calciatori e i tifosi si sono rincontrati a distanza di 20 anni a Beverino grazie a Spezia Calcio Popolare nell'ambito della saga della società calcistica di Bancalari un dibattito che poi è stato un ricordare quell'annata favolosa fatta di uomini e calciatori con moderatori Massimo Lombardi e Federico Lavalle presenti il mister Antonio Soda e i suoi ragazzi Nicola Padoin Mirko Bruccini Ivano Rotoli e Marco Gorzegno sono contento di aver visto un sacco di gente che non vedeva da un po' abbiamo parlato abbiamo discusso un po' di quegli anni lì che ho fatto io qua quindi della vittoria naturalmente dalla C alla B sono molto legato a questa città a Gorzegno è spettato ricordare la figura di Ilaria Franchetti tifiosa aquilotta prematuramente scomparsa mentre a Soda la figura di Paolino Ponzo era stata proprio forse la prima la prima tifosa a nutrire diciamo un piacere personale verso di me quindi poi da quella è nata è nata un'amicizia Paolino per me era uno dei più rappresentativi diciamo come giocatore ma soprattutto come uomo era un esempio anche per me che facevo allenatore Rotoli che ormai ha messo radici a spezia ricorda con affetto quel periodo è un ricordo indelebile che riapre delle emozioni che sembrano assopite ma che in realtà sono ancora forti dentro ognuno di noi della squadra faceva parte anche lo spezzino Bruccini rincontrare ex ragazzi ex compagni il mister erano anni che non le rivedevo ma fa molto piacere rivedere anche tutta questa gente che ricorda quell'annata soddisfazione della serata da parte degli organizzatori del dibattito è un'emozione forte perché quella cavalcata del 2005 e del 2006 è ancora indelebile nei nostri cuori questa sera questi giocatori hanno fatto capire quanto tengono la maglia bianca e in particolare un ricordo di Paolino Ponzo che è sempre con noi ci segue nelle maglie ma è nei cuori di tutti grande successo di pubblico per la prima edizione della manifestazione Verde Oliva organizzata da Confartigianato a Sarzana con il patrocinio del Comune di Sarzana il contributo della Camera di Commercio Riviere di Liguria e la collaborazione del Consorzio Sarzana Vite oltre 3.000 presenze a Palazzo Roderio presso gli stand dei frantoi oleari del territorio e agli eventi collaterali Sarzana è diventata capitale dell'olio del Levante Ligure dal 22 al 23 giugno Al Via questa sera la 25esima edizione del Sarzana Lirica Festival il primo appuntamento della Kermes musicale si terrà a Santo Stefano Magra con un racconto concerto dedicato al Trovatore di Giuseppe Verdi vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini e Davide Morina si è concluso proprio nella giornata di ieri il terzo appuntamento ed ultimo della Spezia Lirica Forum in questa seconda edizione dedicata a Puccini un grande successo si veramente un grande successo siamo realmente orgogliosi di quanto è accaduto la Spezia Opera Forum quest'anno ha funzionato benissimo sono state tre giornate di grande interesse anzi quattro perché veramente una l'abbiamo raddoppiata per dire la rappresentazione sull'incrociatore Porta Aeromobili Garibaldi siamo riusciti a realizzare per ben due volte l'opera completa Madame Butterfly e anche le altre due serate quella di presentazione e quella di conclusione che è stato un dibattito su Madame Butterfly sono perfettamente riuscite però è innegabile l'enorme successo che ha avuto l'idea che è stata veramente clamorosa di rappresentare quest'opera sulla sulla nave della Marina Militare e so che è stata apprezzata un po' dappertutto ne hanno parlato giornali in varie parti del mondo addirittura e quindi è stato un evento di grandissimo di grandissimo di grandissimo spessore penso che anche negli anni futuri si ricorderà ora tutti gli occhi sono invece puntati sul Sarzana Lirica Festival che scalda i motori e parte proprio questa sera con degli spettacoli fuori le mura questa sera iniziamo proprio con Santo Stefano con una grande opera verdiana il trovatore naturalmente gli interpreti sono i ragazzi del Sarzana del Sarzana Festival e quindi abbiamo sempre questo ritorno dei nostri ragazzi che ormai diventati famosi ritornano per cantare per fare opere per trovare dei palcoscenici anche minori ma comunque dei punti di lavoro nella nostra zona e Santo Stefano da anni collaborano in maniera assolutamente attiva e importante nella nostra manifestazione perché la nostra mission come voi sapete è proprio dare il lavoro e portare i nostri ragazzi in carriera quindi stasera il trovatore domani sera ancora a Santo Stefano con la grande interprete di Butterfly Enrico che veramente ci ha fatto piangere ci ha fatto sognare e la porteremo a conoscere a Santo Stefano insieme al tenore Vladimir Reutov insieme avranno tutto un repertorio pucciniano e lì avremo di che sentire al pianoforte il magico Goretta che anche lui devo dire è la nostra orchestra I tagliandi gratuiti dove si possono trovare? Sì, i tagliandi sono assolutamente gratuiti e sono in distribuzione fino ai suoi rimenti posti ovviamente tutti i giorni dalle 18 alle 20 davanti al palazzo comunale di Sarzana in piazza Matteotti esattamente Inizia dalla Liguria dalla Spezia la prima tappa della 38esima edizione di Goletta Verde 2024 la storica campagna estiva di Lega Ambiente che dal 28 giugno al 13 agosto prossimi navigherà lungo la penisola per monitorare lo stato di salute del mare e delle coste italiane prima tappa alla Spezia dove la Goletta Verde sarà ormeggiata presso il porticciolo Asso Nautica in passeggiata Morin dal 28 al 30 di giugno e sabato 29 giugno ore 10.30 si terrà l'incontro Nautica Elettrica una scelta ambientale e un'opportunità di lavoro Il borgo di Pitelli si riempie di tensione e mistero con la rassegna Pitein Noir il 28 giugno 5 luglio e 12 luglio prossimi nel borgo Spezzino gli autori incontreranno il pubblico e racconteranno ai presenti gli aneddoti più particolari che hanno dato origine ai loro libri ambientati sul territorio vediamo il servizio di Ginevra Masciullo e di Daniele Rabuazzo Anche quest'anno il borgo di Pitelli diventa cornice di Pitein Noir che giunge all'ottava edizione come si è sviluppata questa rassegna e quali sono le vostre aspettative per il futuro? A noi ci piace raccontare in modo diverso il territorio in cui viviamo e Pitein Noir è nato per gioco per scherzo 8 anni fa cercando di mettere in relazione dei libri possibilmente magari con qualche suspense con qualche chicca di storia che parlassero di Pitelli e vi dico che li ho trovati e nella prima edizione abbiamo fatto questa scoperta poi negli anni è cresciuta cioè la voglia di scoprire il territorio abbiamo scoperto e con grande orgoglio che ci sono tanti scrittori spezzini che amano raccontare questo bellissimo territorio il nostro golfo e l'introterra del golfo in modo diverso ed è una scoperta anche per i turisti perché si trovano invogliati a partecipare e andare a scoprire i nostri paesini che ci sono intorno con una nota di suspense e di mistero quando saranno le serate come partecipare? allora partecipare è un modo diverso di vivere anche il borgo perché non è una classica rappresentazione di un libro è proprio vivere l'atmosfera del libro attraverso piccole letture attraverso gli aneddoti degli scrittori quindi è un modo un po' diverso di presentare il classico libro e nell'atmosfera a Pitelli il venerdì perché rigorosamente il venerdì a partire dai tre appuntamenti di fila a partire dal 28 giugno quindi il 28 giugno 5 luglio 12 luglio di venerdì alle 21 e 15 nella piazzetta davanti alla chiesa in una cornice magica e meravigliosa giovedì prossimo ore 19 al PIN ai giardini pubblici della Spezia Marco Ferrari e Marino Magliani presenteranno il loro nuovo libro scritto a quattro mani intitolato Sporca faccenda a Mezzala Morettini edito da Atlantide interviene il giornalista Armando Napoletano l'iniziativa è promossa dalla libreria Ricci e con ciò siamo in conclusione non prima però di seguire le previsioni meteorologiche per la giornata di domani a cura di Limet Centro Meteo per la Liguria grazie per averci seguito l'augurio di un felice proseguimento di serata ovviamente su Tele Liguria Sud arrivederci una buona serata a tutti dall'Anele Gallo la goccia fredda che ci ha interessato in questi giorni tenderà a colmarsi parzialmente e a traslare verso est pertanto nei prossimi giorni ci aspettiamo un generale miglioramento delle condizioni meteo ma veniamo i dettagli per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 26 giugno al mattino il cielo sarà sereno o al più velato su tutta la regione a partire dalle ore centrali avremo un aumento dell'attività cumuliforme sull'Apennino e nelle zone interne con possibili brevi temporali più probabili tra la Valle Scrivia e la Valle di Vara lungo la fascia costiera avremo un generale aumento della nervosità soprattutto sul centro levante ma senza fenomeni di rilievo i venti saranno deboli da nord al mattino brezze invece più sostenute da sud al pomeriggio il mare è poco mosso infine uno sguardo alle temperature le minime saranno in dieve calo e le massime invece in aumento i valori minimi costieri oscilleranno tra 14 e 18 gradi mentre quelli massimi tra 24 e 28 gradi se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni potete visitare il sito centometrodigore.com grazie a tutti e Grazie.